Quando c'è in un ambiente, in un ecosistema, un grado di biodiversità più alto, più basso risulta la distribuzione, la diffusione di una malattia e viceversa. La biodiversità è fondamentale e quando manca per l'agricoltura i problemi sono tanti e imprevedibili. Ne ho avuto la conferma in Puglia dove sono andata a documentare il fenomeno del dissecamento degli olivi. È paradossale attribuire tutte le responsabilità ad un batterio vegetale e al suo vettore e focalizzare una specie di guerra santa contro soltanto questi due protagonisti senza considerare che la xylella è l'espressione più eclatante di un ambiente malato. In Puglia si è ordinato di abbattere gli alberi, di diserbare, di usare dosi massicce di insetticidi. Ma tutto questo è efficace? Hanno avviato una campagna di utilizzo massivo di pesticidi che non ha presupposti scientifici. Le poche evidenze prodotte da questo punto di vista ci dicono che proprio gli insetticidi e i pesticidi che sono stati consigliati in questo caso, che sono sostanzialmente piretroidi e neonicotinoidi, non sono di fatto efficaci per contrastare né l'avanzata della xylella né il suo vettore perché hanno un'efficacia limitata nel tempo, non riescono a debellare completamente il vettore della xylella e non è mai stato dimostrato da nessuna parte che l'utilizzo di queste sostanze possa arrestare l'evoluzione dell'infezione. La soluzione del problema al dissecamento rapido dell'olivo non è l'abbattimento delle piante, proprio per i motivi che ho detto prima. E anzi, l'abbattimento delle piante come soluzione al problema è un crimine. E quali sono le conseguenze di queste decisioni? Ci sono ampie evidenze, soprattutto sui piretroidi, sugli effetti negativi sanitari dei piretroidi. I neonicotinoidi sono stati studiati in termini di effetti negativi, soprattutto sugli insetti e sull'ecosistema, tanto che sono stati, come sapete, messi praticamente al bando, soprattutto qui nella comunità europea. Si stanno producendo numerose evidenze scientifiche anche sulla dannosità dell'acetamipride, che è il neonicotinoide indicato in maniera elettiva per il contrasto del vettore della xylella. Questo pesticida è neurotossico, può avere alterazioni sullo sviluppo degli embrioni e dei feti, si trasmette da madre a feto attraverso la membrana placentare, ha soprattutto conseguenze importanti sul neurosviluppo. Cause e soluzioni del dissecamento vanno cercate oltre il batterio xylella e coinvolgono la salute delle persone. Dovunque si colpisca la biodiversità, questo ha effetti negativi anche sulla salute umana. Per cui proporre una monocoltura o esterminare insetti utili significa dare un colpo di grazia alla biodiversità in una zona dove la biodiversità è già fortemente in crisi. Il problema andrebbe risolto rimuovendo le criticità ambientali. E infatti laddove questo viene fatto, le piante si riprendono. Non si riuscirà mai ad affrontare in maniera adeguata il problema se non si parte dal presupposto che è l'ecosistema a dover essere trattato in maniera adeguata e non soltanto un batterio o il suo vettore. Bisogna cambiare filosofia, bisogna cambiare modello agricolo ma io direi anche socio-economico. Per completare il documentario e per garantire l'indipendenza del progetto abbiamo aperto una raccolta fondi. Qui sotto trovi tutte le informazioni per aiutarci. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.